Quando si studia o si vuole imparare davvero qualche cosa senza mai tornare indietro e senza preoccuparsi di essere inefficienti c'è un solo approccio che funziona veramente molto bene ed è l'approccio del carro armato. Sì lo so questo non è un carro armato è la Batmobile ma non avevo un giocattolo di un carro armato perché insomma io quando ero più piccolo giocavo sempre solo con Batman e quindi non avevo un carro armato a disposizione ma la Batmobile andrà bene lo stesso insomma ci rappresenterà il nostro carro armato. Che cos'è l'approccio del carro armato o della Batmobile? Il concetto è molto semplice nessuna ritirata procedere dritti conquistare un pezzo di terreno alla volta. Uscendo dalla metafora che cosa significa? Significa che dovete approcciare il vostro studio a step e dovete preoccuparvi sostanzialmente di non tornare mai indietro controllare e padroneggiare un certo tipo di informazione una certa un certo argomento prima di passare al successivo e questo si applica a tutti i livelli al micro livello della singola frase finché non avete padroneggiato compreso rielaborato e sapete ripetere la singola frase che avete appena letto non passate a quella successiva se trovate un riferimento in quella frase che appunto non capite o che avete bisogno di recuperare recuperatelo subito non fate mai quel ragionamento di dire ma sì lo riprenderò dopo no non si riprende dopo Batman non si comporta così conquista un pezzetto alla volta nella sua autostrada correndo con la Batmobile quindi conquistate il pezzo di frase e poi passate a quello successivo si applica a livello macro del capitolo finché non avete finito un capitolo e quindi avete finito anche tutte le fasi la lettura la sottolineatura delle parole chiave la comprensione naturalmente lo schema aver fatto lo schema la vostra mappa o qualunque stile vogliate aver applicato fatto gli esercizi quando avete conquistato tutto quel capitolo siete certi di padroneggiarlo al meglio passate a quello successivo non prima non vi fate prendere da quella da quell'ansia di dire vabbè faccio un pezzetto lo leggo però lo schema lo faccio la settimana prossima intanto vado avanti a leggere i capitoli no è una pessima idea conquistate un pezzetto e quando lo avete consolidato andate avanti quindi è un'idea di aumento graduale progressivo incrementale in cui non tornate mai indietro non dovete mai rileggere perché vi assicurate di aver padroneggiato quel pezzo e costruite la vostra casa mattone su mattone senza dover mai tornare indietro a controllare se le fondamenta forse non le avevo fatte bene adesso devo andare a rileggere quel pezzo no assolutamente no e si applica questo anche al macro livello della preparazione di un esame o di un concorso per cui prima di passare al libro successivo al libro numero due avete consolidato il libro numero uno non vi appunto perdete nel leggere un pezzo di qua un pezzo di là procedo un pezzetto oggi studio questa parte domani ne studio quest'altra poi torno indietro poi rileggo niente un pezzo alla volta procedete dritti sicuri assicuratevi di aver conquistato quella informazione quell'argomento e solo dopo andate all'attacco di quello successivo ricordatevi quindi che la batmobile o il caro armato vi simboleggia il vostro avanzare lento magari ma progressivo costante senza mai tornare tornare indietro e la vera velocità sarà quella di appunto non dover mai ritornare a rileggere ripasserete in maniera molto più efficace molto più rapida e arriverete alla fine della vostra preparazione in realtà in meno tempo perché pur procedendo magari più lentamente la vostra strada è dritta senza ostacoli e arriva diretta al vostro obiettivo ricordatevi che anche batman ve lo consiglia